ben arrivato luca guadagnino grazie siamo molto contenti di inaugurare con te pure io questo questo format di lusi che si chiama l'incontro quindi questa è la prima volta anche il primo set ora visto che questa è la prima volta è proprio la prima volta esattamente devo fare i complimenti sulla scelta di due colori ecco questo ti volevo chiedere visto che tutte le tante cose anche uno studio di inter design cambiamo qualcosa no è perfetto mi piace molto vabbè meno male guarda benedizione di luca guadagnino il miglior viatico senti io cominciarei a parlare con te di bones and all a venezia ha vinto leone raggento per la miglior regia è stato accolto con grande entusiasmo mi ricordo la standing ovation a venezia fra le persone che applaudivano ce l'ho pure io perché come sai il film l'ho molto amato allora vorrei che ci raccontassi di come hai fatto dialogare perché immagino che tu ci abbia pensato la giovinezza dei due ragazzi cannibali del film con la tua giovinezza non sono sicuro che nel percorso di elaborazione di bones and all abbia fatto questo tipo di cortocircuitazione mi è successo con we are we are molto di pensare a me stesso adolescente e mi come dire mi cercavo nel jack soprattutto nel caso specifico di bones and all non evidentemente l'idea dell'america l'idea di quel posti quei posti in cui questi personaggi si muovono appartiene a livello di immaginario alla mia idea di quell'america vista attraverso i film che io vedevo quando avevo quell'età o anche più giovane visto me lo chiedi sto pensando che forse a che fare con l'estrema solitudine di questi ragazzini nel film qualcosa che può risuonare in me perché io pure era abbastanza solitario per esempio lì gli adulti come dire non ci fanno una bella figura nel film la prima volta nel mio lavoro che un adulto non fa una bella figura non fa una bella figura beh sì perché il papà del timore si dice a me in colmi bayornè era meraviglioso qui invece i padri sono abbastanza inquietanti c'è una sorta di peso fortissimo che schiaccia da parte delle della genealogia e come se questi ragazzi sono vittime della loro condizione ma sono anche costretti da questa sorta di peso per terrificante che è il l'abbandono che ricevono dai genitori il rifiuto che ricevono dei genitori la violenza che ricevono dei genitori però questo anche molto americano probabilmente essendo una società molto crudele e lo pensa a livello intuitivo no come mai secondo te gli anni 80 ritornano così spesso nel mio lavoro sicuramente nel lavoro ragazzo degli anni 80 non credo di aver proprio chiuso i conti con con quella decade e una decada e tu ricordi con piacere oppure con inquietudine per esempio ma è un miscuglio di sensazioni dal santo un certo punto di vista era proprio il luogo dentro quale mi stavo formando e quindi era come c'è qualcosa di nostalgico per me rispetto a quel periodo profondamente nostalgico perché è proprio dove io sono diventato ciò che poi sono come persona come elaborazione del mio pensiero del modo in cui vedo il mondo dall'altro lato secondo me è stata una decade molto molto complessa e che ha generato le premesse della catastrofe del contemporaneo quindi anche a livello dell'uomo adulto che guarda al passato togliendo la nostalgia della personale può comunque osservare in quella decade qualcosa che poi c'è qualcosa che poi fa scricchiolare tutto quanto il resto sì sono convinto di questo quella era la decade effettivamente dove c'era il massimo fulgore e forse ancora si poteva parlare di sogno americano c'era l'idea del sogno americano vista in una maniera da un lato completamente a critica penso proprio a Top Gun per dire dall'altro visto con l'acutezza l'umorismo e la credine proprio intellettuale dei grandi registi degli anni 80 come Joe Landis, Joe Dante o Jonathan Demme, dei tre J che guardavano all'America con uno spirito umanista affettuoso ma anche ne svelavano ciò che c'era dietro la patina lucida di Top Gun dall'altro è proprio come dire in Italia trionfa la tv commerciale di Berlusconi che come dire pianifica già le mosse successive ora lo possiamo dire dopo questa distanza 40 anni dopo e di quel sogno lì oggi no? tu che frequenti molto gli Stati Uniti cioè resta qualcosa oppure rimedibilmente perduta quella cosa lì? loro sono disperatamente attaccati alla possibilità di riprodurlo c'era la satira di Joe Zemeckis nel secondo episodio o nel terzo di Back to the Future quando lui arriva nel futuro e vede che c'è tipo Rocky 96 non è così lontana dalla realtà quella sorta di paradosso acre di quella scena lì cioè penso che siccome era analogico gli anni 80 erano analogici oggi non più il mondo digitale è un mondo di riproduzione infinita di immagini velocissime e ho visto e sento che in America in questo momento hanno proprio la necessità di aggrapparsi a qualcosa di solido che li riporta una forma di ripensiamento nostalgico del sé ma non ci riescono da un horror all'altro perché negli anni 80 sono stati anche un decennio in cui i film horror sono diciamo esplosino soltanto negli Stati Uniti ora Bones and Doll è un horror ed è una storia d'amore ma infatti per esempio quando Terry Horace agguanta il dito dell'amica poi io proprio sono saltato sulla sedia però al tempo stesso c'era una sensazione di intimità cioè forse anche questa cosa qui cioè il fatto che accade qualcosa di lacerante in una situazione che invece tu senti calda, familiare, amichevole quindi forse questa... ma il genere invece è cambiato molto nel frattempo secondo te questo... beh è stato sempre più irrigidito dalle regole nel senso che come tutto il cinema hollywoodiano si comporta sempre sulla base di una struttura che deve essere molto rispettata ancor di più l'horror che si appoggia a certe cose come il jump scare come il doppio finale e via dicendo non sono molto appassionato degli horror contemporanei deve essere sicuro ok, tutto questo appunto... poi loro rifletterono molto le ansie delle società in cui si sono fatti si ricorda che per esempio dell'esorcista dicevano è il ritorno, è il riflusso, è un film sul riflusso dell'esorcista perché tutto quanto è ambientato nelle case è finito il tempo della protesta, è finito il tempo... beh c'è anche lei che interpreta una protagonista di un film su una protesta te lo ricordi? no questo non lo ricordo è fondamentale quella scena, lei all'inizio del film prima che torna a casa con la famosa musica di Mike Oldfield credo lei la vediamo che è una star e va sul set e interpreta una capopopolo che protesta davanti a un monumento con degli ragazzi che protestano poi dicono cut e lei ritorna a essere la diva molto interessante questo non me lo ricordavo quello è un capolavoro assoluto ma a proposito di paura tu mi dai l'idea vedendoti all'opera di un regista che con molto coraggio e con molta audacia riesce a lanciarsi in imprese insomma complicate e poi appunto nel portarle a termine cioè hai il coraggio di inseguire le tue visioni, i tuoi sogni e spesso appunto riesce a realizzarli però invece c'è qualche cosa in questo processo qui che ti fa paura? il momento in cui il film viene mostrato in primo luogo alla critica e poi al pubblico ho paura della prima ok beh è andata benissimo con Bonso e in Dolce c'era gente che però quella cosa lì dopo la prima mi fa paura la prima è sono l'ansia a proposito di chi ha ancora più ansia di te cioè i registi che stanno esordendo magari adesso o che hanno esordito da poco tempo parlo ti voglio chiedere una cosa John Waters che ogni anno cita quelli che sono i film secondo lui più belli quelli che gli sono piaciuti di più quest'anno ha messo anche Bonso e in Dolce davvero? sì 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 parlo di lui perché lui è uno che non si è mai atteggiato a maestro però ha cambiato la storia del cinema indie americano allora la cosa che ti voglio chiedere perché citavo lui perché tu che sei adesso un regista maturo vuole sapere che rapporti hai con i registi delle diciamo così vecchie generazioni e che invece che cosa pensi che qual è il rapporto che magari invece hai con con i nuovi registi cioè se da una parte senti ancora un debito di riconoscenza nei confronti dei maestri del novecento e dall'altra invece se c'è un dialogo con i registi che magari stanno ai primi film e che vedono in te un punto di riferimento bellissima domanda la risposta è assolutamente sì sono sempre in forma di debito nei confronti del cinema che mi ha preceduto penso oggi di essere interessato nella sostanza solo a quel cinema non trovo una grande energia in quello che vedo nel contemporaneo ogni tanto sì ovviamente ma invece se ripenso a se posso vedere un film anche visto tante volte o un film che non ho mai visto di 40, 50, 60, 70 anni fa mi dà un'energia enorme quindi assolutamente io sono in quella scuola lì il cinema si fa con la memoria del cinema e i ragazzi i giovani registi bisogna distinguere esiste diciamo la platea di coloro che vogliono fare cinema e che ti vengono a chiedere di parlare di questa cosa come possono farlo e per me è sempre molto difficile dare un consiglio perché io posso solo dare il consiglio che riguarda ciò che ho fatto quello che ho fatto io è stato di farlo mi sono messo a fare cinema la cosa che diceva Kubrick il miglior modo per imparare a fare un film è farlo e farlo ho fatto film ho fatto film in ogni formato e ho dato ho fatto un'altra cosa mi sono circondato di persone con cui potevo fare il film ho dimostrato una forma di seduzione nei confronti di altre persone che conoscevo man mano nei miei vent'anni che poi parecchi di loro sono rimasti al mio fianco per decadi e poi io però invece amo moltissimo sostenere e promuovere e produrre il lavoro dei giovani cineasti diciamo nell'anno scolastico 22-23 sto producendo cinque film di cui tutti opera prima opera seconda ah vedi fantastico a proposito del rapporto con la mia memoria mi ricordo una cosa forse non ti avevo mai detto ma comunque era implicita visto il vostro incontro una volta prima di un tuo bellissimo incontro che c'è stato assolutamente il libro con Bernardo Bertolucci quando andai parlavo con lui dicendogli appunto immaginando il fatto che lui potesse parlare insomma con un regista che nel suo caso era di qualche generazione dopo lui diceva Luca Guadagnino è uno dei pochi che è anche un cinefield quindi questa cosa qua rispetto alla alla memoria no a proposito del fatto che tu giustamente il cinema è un lavoro di gruppo questa cosa qua il fatto di crearsi è una strana qualcuno me l'ha detto recentemente ah ho parlato ieri con la nipote di Ridley Scott e lui mi ha detto mio nonno dice il cinema è una dittatura benigna e c'ha ragione dipende da chi è il regista però a tal proposito sulla dittatura benigna alle feste ci sono quelle che arrivano e tutti quanti li guardano e alle feste ci sono quelle che si mettono in un angolo e osservano diciamo così gli altri ora il regista è la seconda persona però anche la prima perché comunque tutti quanti devono anche guardare il regista perché lui è il capo del processo creativo cioè ci sta da parte il protagonista e dall'altra il regista sta sempre dietro e osserva e odia essere guardato non sono certo di questa cosa perché lo so lo so rispetto a me stesso lo so rispetto ad altre persone che conosco alcuni maestri giganteschi è una forzatura è una condizio sine qua non che però deve anche come dire esprimere una sorta di guardatemi tutti che vi do le risposte per quanto per ogni regista dare queste risposte è una pena vera perché tu pensi sempre che quello che tu hai in mente è come trasmesso per qualche forma di non lo so forza superiore agli altri ma in realtà no lo devi spiegare a chiunque ti viene a chiedere cioè agli attori il direttore della fotografia il scenografico la mia regola quando comincio un film è sempre dire a tutti quelli con cui stai lavorando io lo dico due volte e basta poi la seconda volta non lo dico più ok e loro? non molti sottovalutano poi io mi incazzo eccetera ok ma ecco a proposito del del metodo di lavoro qualche giorno fa ho letto un libro che usciva fra poco di Francesco Piccolo che racconta la rivalità fra Luchino Visconti e Federico Fellini che poi culminano tra il 62 e il 63 quando uno gira 8 e mezzo e l'altro gira c'era pure la rivalità tra Luchino Visconti e Joseph Losei che è più interessante ah vedi no questa non la so si odiavano si odiavano quella era più proprio vera però c'è anche diciamo una rivalità fra diversi metodi di lavoro cioè uno sembra seguire più l'istinto che Fellini e l'altro la pianificazione assoluta che vi sconti anche se poi le carte si mescolano forse potrebbe dire che sarà stato sicuramente uno scontro tra titani del narcisismo Piccolo Borghese l'aristocratico tra l'aristocratico ha amato dei comunisti e invece il Piccolo Borghese ha amato dei moderati quindi è abbastanza interessante ma invece quanto l'istinto e quanto la pianificazione sono importanti per realizzare un tuo film diciamo maturando nel tempo diventando più adulto lavorando sempre di più facendo più cose ho imparato che una cosa che per me magari era una fatica a fare è importantissima cioè la pianificazione quindi devi stare lì parlare con il tuo aiuto regista leggere 50 volte il copione sapere esattamente cosa vorresti fare con largo anticipo proprio perché questo è il modo migliore che tu hai non dico per improvvisare che non è una parola che amo ma quanto per cercare di cogliere ciò che accade mentre accade o come diceva Bernardo Bertolucci che citava Jean Renoir lasciare la porta aperta alla realtà sul set e lasciando la porta aperta alla realtà sul set a te capita mai cioè è bene che capiti è bene che non capiti che mentre stai facendo il film scopri qualcosa di quel film che non avevi ancora messo a fuoco e te ne accorgi mentre la fai certamente questa è una cosa fantastica una rivelazione che accade molto sul montaggio perché tu quando dirigi stai sempre guardando gli attori che recitano o dal monitor o in piedi e stai cercando di fare dentro la tua testa una sorta di equazione che ti dà una sorta di giudizio medio per cui tu dici ok va bene ce l'ho poi però tu vai al montaggio e ti poni di fronte al montagiale che stai guardando in una dimensione molto diversa perché sei da solo col montatore sei in un altro momento della tua vissuto e incominci a guardare ciò che accade veramente e trovi delle epifanie straordinarie non so se queste cose vengono fatte prima o dopo prese poi le colonne sonore io quando è arrivata Atmosphere in Bons and Doll proprio sarà che poi la generazione quella lì ho avuto proprio i bimbi quella dei Joy Division lì però c'è Atmosphere dei Joy Division e poi Your Silent Face dei New Order quindi lo stesso gruppo con e senza Ian Cartes quella è caduta in una maniera strana perché io stavo dialogando via mail con un mio amico che poi è un attore che ora fa Challengers che è Joshua Connor e lui mi ha mandato questa canzone dicendo mi fa pensare a te Atmosphere io la conoscevo ma non l'avevo sentita da vent'anni e ho detto ah pazzesca questa allora sono andato al mio montatore e gli ho detto proviamo un attimo questa canzone allora a quel punto ho capito che il New Wave era giusta per il film c'è una versione di Bons and All un po' più lunga dove abbiamo messo tipo sei canzoni dei New Order dei Suicide dei Joy Division però era come se era come se fosse come dire un gioiello di troppo quindi siamo tornati indietro io ho trovato una scelta stupenda ma hai citato Challengers ci stai lavorando anzi quasi finito ecco Challengers che è ambientato nel mondo del tennis poi ci sarà anche Queer da William Barrox ora il tennis è uno sport insomma spietato e competitivo tu che rapporto hai con la competizione per esempio? non lo so non credo di essere competitivo sinceramente senti e poi vedremo Challengers che esce nel 23 e poi immagino avremo modo di parlare di William Barrox ma però almeno una cosa te la chiedo che sentimento provi tu per uno scrittore come Barrox Barrox è come se fosse una sorta di zio mio io l'ho scoperto quando ero teenager immagino anche tu e l'ho letto tutto è liberatorio per me tutto ho letto tutto Barrox due tre volte nel 93 volevo fare un cortometraggio da The Wild Boys che si chiamava The Penny Arcade Pip Show che era uno dei capitoli che erano capito di che tornavano ed è lì che ho conosciuto Tilda Swinton perché le chiesi se mi dava la voce registrava la sua voce ma andai com'è che l'hai conosciuta io volevo fare un cortometraggio che si chiamava The Penny Arcade Pip Show in cui volevo esplorare con delle lenti macro la pelle la superficie di un corpo maschile che epoca era? 92 93 e nella mia megalomania dicevo ok faccio sto corpo maschile però la voce il libro di Barrox verrà letto da Tilda Swinton che già era una megastar perché aveva fatto Orlando aveva vinto la coppavolti con Edoardo II e io l'ho incontrata a Roma alla come si chiama al palazzo delle esposizioni e gli ho chiesto se faceva questa cosa e metto di sì quindi io ho la voce registrata se io dovessi immaginarmi non so niente né di challengers né di queer quando io penso a un tuo film in astratto penso alle luci tu sei un maestro anche di luci sei nato a Palermo sei cresciuto ad Addis Abeba e volevo capire se secondo te questi posti quelle luci hanno qualche modo definito il tuo sguardo sulle cose io sono totalmente influenzato da quell'imprimatur che erano le luci e il paesaggio a livello proprio della volta del cielo e del modo in cui si comportava il sole in quei due posti sono molto fortunato quindi ritornano insomma in qualche modo e senti una cosa letteraria noi tutti quanti di Lucy oltre ad Amarito i film leggiamo sempre i necrologi che scrivi con Carlo Antonelli che nelle vostre mani avete letto l'ultimo sono proprio quello io con la regina Elisabetta no tra i pochi giorni fa abbiamo fatto un necrologio doverosissimo a uno dei miei maestri e nei nostri maestri che poi il vecchio è lì nelle vostre mani è un genere letterario diventato un necrologio ma senti c'è il necrologio di qualcuno che avresti voluto scrivere e non l'hai fatto in tempo ce lo può dire Gloria che è la nostra complice in questa cosa non credo a lei è complice non è inquadrata ma Gloria ha un rapporto stupendo col Corriere io penso che la pagina dei necrologi del Corriere della Sera sia una delle cose più belle e prestigiose che c'è in Italia beh in dei necrologi ci sono delle persone che comprono i quotidiani solo per le questo spesso in provincia succede che uno cerca di no non credo che ci sia tutto è nato perché era venuto a mancare un amico caro di entrambi che era il gigantesco Enzo Mari seguito pochissimo dopo dalla meravigliosa moglie Lea Vergine e lì era proprio un istinto poi però piano piano abbiamo detto eh questa idea dell'abbandono nella terra nel mondo di queste figure che ci colpiscono alcune molte sono amici o comunque sicuramente sono figure di riferimento e poi siamo rigorosissimi nel senso che se succede cioè si fa la riunione di redazione e spesso si decide no non si fa il necrologio è diventato un format abbiamo un necrologio pronto che si chiama Coccodrillo ho già scritto come il quotidiano abbiamo tre tre sono fatti ok non li diciamo però no 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 però tre sono stati scritti ormai da mesi due pronti ad andare il terzo c'è un dibattito interno se si deve fare o meno vedremo vedremo va bene senti ultima domanda se l'Italia di oggi se l'Italia di oggi fosse un film che tipo di film scusa un attimo c'è solo un'ultima cosa che è una cosa che ogni tanto non riesco a dormirci perché ci penso se muoio Carlo cosa fa un necrologio di Carlo Antonelli Luca Guadagnino dovremmo scriverci Coccodrillo e Carlo a vicenda e depositarli come aveva fatto Camilleri con l'ultimo Montalbano a qualche parte dobbiamo farci i nostri necrologi perché quando moriremo uno dei due tu devi pubblicare credesse gli entrambi e ognuno spera di poter leggere l'altro ovviamente in realtà il nostro sogno segreto è di trasformare questi necrologi in un libro eh beh prima o poi cosa succederà però mi sta succedendo un'altra domanda no se l'Italia di oggi fosse un film che tipo di film sarebbe ah se l'Italia di oggi fosse un film penso che sarebbe un due tre di Billy Wilder una farsa farsa anzi forse è troppo nobile un due tre però no in realtà l'Italia è anche un paese straordinario con delle figure delle cose che accadono straordinarie diciamo che sarebbe bello se si potesse uscire da questa dittatura del hype del mainstream di ciò che sembra essere ciò che è al centro delle cose che non è non è non le cose che sono che accadono sui social media non sono ciò che accade nella sensibilità della moltitudine l'Italia non è necessariamente semplicemente la politica italiana non è la sua rappresentazione e quindi vabbè se il lavoro degli artisti è anche questa cosa qui quello di andare a a trovare insomma lì dove c'è dove c'è la vita grazie Luca grazie Nicola grazie mille grazie